Seconda semifinale Allielli, battaglia anche qua a 4, non è la 1 cm Radaelli, la scelta della guapa davanti a tutti Ah, scivolata per la pallone, gli ha scelato il primo Tocchata per Radaelli, la partita bomba, la profitta Tormazzo dalla stella, creazzo, sono una trugnola e cazzo con l'attattore di Vignano Non vengono, non vengono, ma parliamo di vedere la leader Tugnaro si è giudica, non è la stella o 426